Sì, sono Fede e benvenuti in un fantastico video di Clash Royale. È il mio primo video qua e sono sull'account del cellulare del mio amico Davide! Eeeh, ciao! Allora, siamo qua e questi qua sono un po' i suoi 5 deck che ha e se volete copiateli, ma non credo vi interessi. Comunque, sono questi i loro deck, è il suo deck e adesso faremo una battaglia a due contro due. Ma prima direi di aprire questa crown chest. Sì, apriamo la crown chest, vai! Scusate per il lag della connessione, ma dove siamo non c'è molta connessione e mi dispiace, ma è così, fine, non si può fare niente. Oh, ora va, vai! Due gemme. Quello diciamo perché ci abbiamo già provato anche noi a cercare di trovare una soluzione, siamo stati lì tipo un'ora senza combinar niente. È vero, siamo stati un'ora senza combinar niente e non riuscivamo. Va, dai. Un'epica mi sa. Un'epica, vai! No, vabbè, la fulmine fa proprio schifo. Vabbè, comunque iniziamo subito le battaglie. Allora, vediamo un po' cosa fare. Allora, allora, allora. Ok, perfetto. Dai, si gioca. Questa partita la voglio far bene perché sennò devo rifare tutto il video ed è un bel casino, voi non lo sapete. Parti subito cattivo il nostro compagno, cattivissimo. Ti sto dietro, ti sto dietro, ti sto dietro, amico. Ci sono i barbarozzi che ti fanno male, però ricordatelo. Calca la fireball. Sì, la fireball picchia un sacco. Vai con il bombarole, buono, 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 buono. Sì, si ha preso pure la strega. Vai. Grande, zappo, 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 zappo. E c'è quello lì che non è molto. Ah, ok, va bene, va bene, va bene, va bene. L'ha ucciso, ha ucciso la mongola. Va bene, va benissimo. Adesso ovviamente il bombarolo uccide la stregozza e... Aia, lo scheletrone però è solo a livello 2, quindi si può bloccare. Comunque stiamo stravincendo noi, eh. Comunque. Adesso muore tutto, però è normale. Metto dietro la princess che fa danno. Poi ci metto lo stregone di ghiaccio che intanto però... Aia. Però buono, 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 buono. Sta andando. Perché se lo stessi chiedendo, la tattica di questo deck è mettere il golem come tank. Poi mettere la cimitero in modo tale che la torre si concentra sul golem. Intanto la cimitero fa, diciamo così, sfornare, non so come volete dire, scheletrini che fanno fuori la torre. Esatto. Se non avete il golem, potete anche utilizzare il parere dei goblin, ad esempio. Sì, però, boh, non lo so. Oh, orca, 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 orca. Questo è pesante, eh. Con la fireball devo buttarla. Dai, prendi anche il... No, non la peso. Però l'ho bloccata, l'ho bloccata, è morta. Aia, un colpo l'ha tirato, un colpo l'ha tirato. Sono pesanti i colpi che tira. Aia. Questo non ci voleva. Anche il mio amico però non ha fatto niente. Comunque metto la Graveland perché lo stregone si concentra, ci mette tipo tre anni. Intanto il nostro legone, il stregone livello 6 comunque fa il suo lavoro sporco. E intanto gli abbiamo tirato giù la torre. Intanto. E adesso anche l'altro orgrider arriva e picchia. Però non ce la fa tirarla giù tutta la torre. Comunque adesso ci dobbiamo difendere perché lui adesso fa ovviamente il suo attacco bestiale. Bravo con la valchiria che fa danno ad aria. Il nostro compagno. Mettiamo questo. Dai che prende anche la... No, non l'ho presa. Aiaiaiaiaiaiai. Picchia, 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 picchia. Vabbè, la torre è giù, la torre è giù, la torre è giù. Ok, ok, è giù, è normale. Va bene, va bene. La torre è giù. Va bene. Non si può far tutto. Va bene, va bene, va bene. E' buono, è buono. Stiamo comunque vincendo la stragrande. Non parlo perché poi magari... Adesso si perde. Però credo stia andando davvero bene questa partita. Vai con lo Grider, l'ultimo attacco bestiale, dai. Dai che forse facciamo le tre stelle. Però devo anche difendermi perché sennò lui ci fa le tre stelle. Ed è un bel casotto. Aiaiaiai, sta laggando. No, no, no. Non ci riesce a fare le tre stelle. Forse noi, forse noi. Vai, 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 vai. Vai, golemone. Vai, golem. Vai, golem. No, non ci credo. Raga, 66. E quelli là che sorridono. Avete perso. Avete perso, imbranati. Vabbè. Comunque è una partita andata benissimo. Direi che ne rifacciamo subito un'altra. Sì, dai. Fai un problema messo, Giro. Va bene, vai. Adesso ce la fa il nostro amico Davide. Vai. Allora. Stiamo lì. E vediamo. Ok. Allora, il nostro amico, anche lui il golem. Adesso vediamo. Sì, anche lui il golem. Due golem fanno tanto, eh. Sì, infatti anche lui ha messo il golem, però non so dove va. Ah, sì, sì, ne ha messo a tankare di là. Buono, buono, raga. Non ho sbagliato la zap. Porca, vabbè. Ovviamente il golem fa un sacco da tank. Il draghetto infernale è molto pesante. Infatti, guardate come ha tirato giù il golem. Eh, mi sa che ci siamo beccati il deck scripettato. Sì, esatto. Hai avuto sfortuna, Davide, tanto per cambiare. Sì, ovviamente. Cioè, come per cambiare, vabbè. No, 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 che pizza. Perché non l'ha beccata? No, no, quasi, quasi. L'ice wizard. Beh, intanto dall'altra parte rischiamo di farne anche noi. Eh, rischiamo, però intanto lui ci ha fatto anche quasi l'altra cosa. Aspetta, non demoralizziamoci. Forse ce la facciamo. Magari facciamo tre stelle. Magari facciamo tre stelle. Picchiamo, picchiamo. Aspetta, aspetta. Fammi caricare, fammi caricare. Secondo me dobbiamo picchiare. Eh sì, ma guarda, ormai è tutto morto. Aspetta. È vero, è tutto morto. L'ice wizard, magari, non lo so. Perché fa danno ad aria ed serve a danno ad aria. Uh, buona la tornado. Sì che serve. No, no, la principessa invece non serve. No, no, eh, zappala. Uh, no, 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 pesante, 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 pesante. Aia. Aia, 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 ai picchiano. Allora, la seconda torre è andata. Uh, no, non è andata. Non è andata, 29. Ormai è andata, cioè. Tu che ne sai, magari non riesci a farcela. No, scherzo, non è impossibile. Attento, attento, metti il golem come tank, subito, subito. E se avessi l'alysir? Mettilo, mettilo. Guarda che ti fa l'ice wizard. Non ho l'alysir. Ma perché non l'hai messo? Ce l'avevi. Eh, ma non ho l'alysir. Sì che ce l'avevi l'alysir. Certo, come no, me lo invento io l'alysir. Esatto. Scherzo. Giusto. Due, due golem, due golem. Vedi, lui ha capito come dobbiamo giocare. Due golem abbiamo, eh. Ok. Ok, bravo. Si può fare, abbiamo un minuto, praticamente. No, no, ce la facciamo. Ma perché? Perché devono mettere certe carte? Perché? Perché? Bisogna essere cattivi. Ok, manda questo, manda questo. Vai, 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 la seconda torre. Dai, dai, dai. Questa bisogna farla. Ma bisogna puntare con le tre stelle, se no siamo fregati. Sì, è vero. Bravo che hai spettato le frecce. Vai, bravo, bravissimo. Perfetto. No, non mi piace il coso. Sì, vai, vai, tirata giù, tirata giù. Ciao, ciao. Dobbiamo pensare di tre stelle. Ciao, ne tre stelle. Ciao. Buongiorno, tre stelle. Grandi ragazzi, grandi. Grandi, stavamo perdendo, abbiamo vinto. Grande Davide. Molto bene. La giant chest, grande. Buona vita che non trova una chest particolare. Guardate, partita buona, chest buona. Fa sempre così. E l'apriamo? Sì, sì. Iniziamo a struttare. Sì, sì, cominciamo ad aprirla, dai. Speriamo vengano cose buone. Dono? Sì. Doniamo, che siamo gentili. Abbiamo vinto una partita, siamo gentili. Però richiediamo anche... Aspetta, la carta che ha fatto di più in questa partita, qual è stata? A parte il golem che non possiamo però richiedere. Secondo me il tre scherretti è il tre scherretti. Dovrebbe dire la principessa, però la principessa non la puoi chiedere. È vero. I tre scherretti li richiediamo, anche se non è una carta da migliorare, però se lo meritano. Perché sono stati davvero una carta impressionante in questa partita. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Forse la prossima volta, quando si sbloccherà la giant chest e se mai arriverete a 20 iscritti, apriremo il baule gigante. Esatto ragazzi, avete capito? 20 iscritti e apriamo il baule gigante. Grazie, ciao a tutti!